Nuovo organigramma presentato questa mattina in conferenza stampa per l'Aquila Calcio, Mario Russo è il presidente, l'obiettivo quello di riportare l'Aquila tra i professionisti dopo la stagione che si è appena conclusa con il secondo posto e la vittoria nei play-off. Andiamo ad ascoltare proprio Mario Russo con le immagini del nostro Donatello Ricci e poi sentiremo anche le parole dell'amministratore Goffredo Jukic. Nuova organizzazione all'Aquila, Mario Russo presidente in bocca al lupo per questo nuovo importante incarico, presidente le chiedo subito con l'obiettivo di vincere il campionato. Come tutti si aspettano questa è una piazza che non può partire per non vincere, è chiaro ci vuole equilibrio, ci vuole compattezza nei momenti di difficoltà che ci saranno, ci sono altre squadre che vanno rispettate perché sono altrettante piazze importanti con proprietà importanti, però è chiaro che questa è una piazza che l'anno scorso è arrivata seconda e ha vinti play-off, non può non partire con l'obiettivo di cercare di migliorarsi. Chiedo un'ultima cosa sull'organizzazione nel senso che è andato già via Perrotti che era stato annunciato come direttore sportivo, se ci sarà una figura e qualche nome di mercato, si è parlato di Sabelli centrocampista del Grosseto potrebbe essere lui il primo colpo? Allora è chiaro che tra virgolette come tutte le cose quando ci sono dei momenti di rinnovamento c'è anche un confronto su quelle che sono le visioni che si hanno dal punto di vista tecnico sportivo, io ho un massimo rispetto, anzi devo ringraziare Salvatore Di Giovanni per avermi accolto e per quello che ha fatto per l'Aquila in questi anni, è chiaro che nel momento in cui un po' di visioni dal punto di vista tecnico sportivo non collimano in amicizia con la semplicità che ci contraddistingue ognuno fa la propria strada e in quel caso Simone capisco l'imbarazzo di essere molto legato a una guida tecnica, Salvatore che ha fatto sempre il responsabile dell'area tecnica negli anni passati all'Aquila e quindi capisco anche le sue scelte. Per quanto riguarda il mercato ci sono delle trattative avanzate, Sabelli è uno dei nomi che sicuramente sta girando ma non è l'unico. Amministratore Jukic, nuovo corso, obiettivi chiari e tornare tra i professionisti mantenendo il cuore dell'organizzazione, società in mano ai tifosi. Sì, il nostro progetto continua, con Mario Russo c'è una totale comunione di visioni, di intenti, ha sposato il nostro progetto, la mission di questa società non è una cosa scontata perché come sapete la nostra è una società anomala, la cui proprietà è in capo alla tifoseria, quindi abbiamo bisogno di uomini come Mario che capiscano dove sono e che sappiano stare insieme a noi per costruire un progetto vincente. Obiettivi, chiaramente, vincere il campionato. Con Jukic parliamo un po' di mercato, chi arriverà? No, obiettivi, fare più punti dell'anno scorso. Quindi vincere il campionato. Di mercato ci stiamo lavorando, ci sono tanti nomi, molti li conoscete, non mi fate entrare nel dettaglio perché non compete all'amministratore occuparsi della parte tecnica, ci sono persone brave che se ne stanno occupando.